Dopo il break che vi ha fatto digerire la mia comunicazione, riapriamo i lavori della mattinata con alcune relazioni dei presenti e il primo intervento programmato adesso è di Paolo Eritier dell'Università di Torino. Il titolo è molto promettente, dall'estetica giuridica all'argomentazione visuale nella formazione del giurista. Io presumo che ci saranno consonanze anche con alcune cose che ho già detto perché il tema mi sembra quello. Va bene, ti picchio quando mancano cinque minuti. Una prima dislocazione e il fatto che ho cambiato anche il titolo. Io ringrazio davvero, perché ero un po' preoccupato ieri perché temevo che Vito a un certo momento della mia relazione chiedesse in diretta un trattamento sanitario obbligatorio per il relatore. E quindi voglio dire, la relazione precedente invece mi consente di, se l'avessi saputo prima, probabilmente avrei dormito di più tre ore stanotte perché nel tentativo di sfuggire a questo trattamento sanitario ho cercato di, come dire, di alleggerire un po' i contenuti e di dare una formulazione. Anche perché io ringrazio davvero Maurizio, Federico e Serena che continuano a, diciamo, a invitarmi qui a insistere. Di fronte a relazioni che sono la violazione palese di qualsiasi regola retorica concernente, le premesse, l'uditorio e financo, voglio dire, la concatenazione logica. Quindi voglio dire, questa insistenza mi fa molto piacere. Però, come dire, il tema della sola dislocazione, senza deissi probabilmente, come dire, dà una plausibilità anche al mio discorso. Allora, io qui parto da, cioè, il motivo per cui ho cambiato titolo è perché ieri ho letto sul Corriere della Sera la notizia che un progetto temo comunitario della Facoltà di Lione prevedeva la discussione delle tesi di laurea in tre minuti. Facendo venire, come dire, da mezza Europa studenti che in tre minuti dovevano discutere le tesi di laurea. La cosa mi ha lasciato un certo sconcerto, perché, come direi, siccome io lavoro da tempo sul rapporto tra pubblicità e diritto e pubblicità e norma, in realtà in tre minuti non si fa una certa una discussione, ma si presenta uno spot pubblicitario, un videoclip, quello che volete, insomma, ma certamente non una discussione di una tesi. Questo chiama in causa, appunto, il ruolo dell'università. Quindi ho ancora espinto di più e ho detto provo a chiamare addirittura in causa la teologia giuridica, che è, come dire, una delle bestemmie che si possono fare in università e che io spesso faccio. Quindi parto da un emblema, che è una struttura testuale composita, che avviene, che non troviamo sui nostri libri di storia del diritto e di diritto romano, e che è, come dire, nasce in un momento in cui l'umanesimo giuridico ricommenta il corpus iuris civilis e si inventa questa cosa delle immagini. Non come un diletto, non come un'attività di mero diletto, un divertismano, ma un qualche cosa che è connesso alla struttura stessa della redazione, della costruzione del testo del corpus iuris, in un momento in cui, come dire, appunto, Alciato, Boudet e altri in Germania riconfigurano tutto il discorso. Quindi, come dire, questo per dire che l'estetica giuridica è una cosa seria, non è un divertimento. E qui abbiamo l'esempio di un emblema che è fatto da un'immagine, da un motto e da un componimento poetico a cui Pierre Cousteau, qualche decennio successivo, aggiungerà un quarto genere, cioè la narrazione filosofica, facendo introdurre in qualche modo in questo tema emblematico anche la filosofia del diritto, in senso serio. Quindi parto di qui. Poi, appunto, farò molto più velocemente questa cosa. Ho dovuto cercare, appunto, di fare un riassunto delle puntate precedenti, non per autocitazionismo, ma semplicemente per evitare, appunto, il trattamento sanitario. Al limite, voglio dire, mi dirà Francesca, se, come dire, queste mie violazioni delle regole sono un caso di colpa cosciente o di dolo eventuale, ma certamente, come dire, qualche cosa di fraudolente c'è in tutto questo, indubbiamente. Allora, puntate precedenti, io qui cito Enrico Di Roviland, che in un testo del 75 già proponeva, tre anni dopo che Bobbio se ne va alla Facoltà di Scienze Politiche, Enrico tornava da Trieste, e, come dire, nello sbeffeggio, e nell'assoluto, come dire, disinteresse dei vari Bobbi, Scarpelli e così via, scrive, quando ancora la rivista di filosofia del diritto era internazionale, adesso che siamo globalizzati abbiamo perso la parola internazionale, e quindi, quando era ancora internazionale, la rivista, Enrico, scrive la configurazione delle teorie nella scienza giuridica, che è un articolo in cui già tutte queste temi, della crisi del positivismo, sono anticipati. E di lì parte, come dire, per me il punto di riferimento è certamente questo, perché di lì, in qualche modo, io, quando appunto mi trovo in contesti come quello di ieri, faccio delle obiezioni che sono già tutte lì. E in cui io, però, non vorrei attribuire questo troppo a Enrico, dico che anche lì è l'origine del mio lavoro sull'estetica giuridica. Poi ci sono una serie, appunto, di cose. Cioè, la terza è per me l'estetica giuridica, è accanto, con gli amici dell'ISL, è accanto all'ermeneutica e all'epistemologia. Cioè, è una cosa seria. E poi, appunto, a Trento, e poi ne altre abbiamo parlato di estetica giuridica del Corpus Iuris, con un articolo che devo ancora consegnare a Federico, ma che sta per arrivare. Altre temi... Ecco, infatti, te lo do domani. L'affezio Iuris è un altro tema che, come dire, è quello della svolta affettiva, l'estetica giuridica, insomma, tutta una serie di cose che però non vi sto a raccontare. E vado direttamente a, come dire, alla convocazione di Aldo, che in contumacia era stata fatta, te l'avevo detto, però poi a posteriore, nell'ultima mia relazione qui a Trento, dove sostanzialmente... No, beh, discutì. Il tema era questo. Io, seguendo Bobbio, seguendo il Bobbio dannato dal 61, Bobbio dice a un certo momento che il tema del Consiglio, accanto al tema del Commando, viene espulso dalla filosofia del diritto, dal diritto, scusate, da Hobbs. E prima il tema del Consiglio, in qualche modo, c'era, e invece dopo Hobbs, non più. È un articolo veramente del 61, bellissimo, secondo me, da questo punto di vista. E io collego l'idea di Comando e Consiglio a tutto il tema, cose di cui si è detto ieri, cioè la soft law, la governance, la teoria reticolare del diritto, cioè tutte forme in cui la struttura del comando e della sanzione non è più, in qualche modo, collegata. E così chiudevo, sostanzialmente, riferendomi a quel bellissimo testo in cui Aldo Schiavello pone il problema, ripropone il problema dell'obbligatorietà, come problema centrale, no? Dicendo, ma dobbiamo ancora pensare in termini solo di morale o giuridico? Cioè dobbiamo stare ancora dentro solo il nesso hard to work o possiamo fare qualcosa di più? E quindi quello che oggi cercherei di fare, a partire di qui, è sostanzialmente sovrapporre, in modo problematico, il tema del nesso Comando-Consiglio con una questione molto complicata, certamente, cioè con il tema dell'immagine nel diritto, vista dal punto di vista del rapporto tra o-economia, cioè economia trinitaria, e economia, cioè normatività dell'immagine, che ha sullo sfondo la questione dell'idolo e dell'icona, dello particolare statuto iconico della normatività. E poi, appunto, ulteriori piccoli passi che avevamo fatto nel frattempo è l'idea che io avevo cercato di dire, cioè di proporre in qualche modo una ridefinizione del tema dell'inclusivo e dell'esclusivo del positivismo, dicendo che a essere inclusivo è solo l'estetica giuridica, cioè il positivismo, sia esso normalmente definito come esclusivo o inclusivo, è sempre esclusivo dell'estetico, e ridotto alla mera analisi del nesso diritto morale, cercando appunto di interloquire interloquire con gli analitici sul loro terreno, almeno con un linguaggio, come dire, che potesse essere più comprensibile. E poi il tema, diciamo, della svolta linguistica alla svolta affettiva, che appunto non allego questa informazione, nel senso che questa informazione non è stata allegata, noi riceviamo in continuazione informazione allegata, la rivista TCRS ha appunto, c'è questo mio articolo in cui si dice di questa ipotesi di svolta affettiva, oltre alla svolta linguistica, riferito appunto a un teologo e all'antropologia della giustizia di un... allego questa informazione, nel senso che magari appunto qualcuno può essere interessato. Questi, come dire, sono piccoli passi che però consentono di dire quello che io voglio dire. Qui ecco c'è invece un lavoro di Gudrich che, come dire, fa emergere in senso critico-decostruttivo il retroterra naturalistico e cibernetico dell'autoimmagine dell'autocelebrazione duorchiniana che si è trovata in qualche modo divertente. Vi rinvio all'articolo di Gudrich in cui prende simpaticamente in giro e vi dirò poi negli atti isle verrà pubblicato. Adesso, ecco, il difficile, cioè la tesi. Io nel titolo della conferenza letto avevo spunto San Paolo e invece appunto lo introduco. E qui contro la lettura di Schmitt tramite Taubes o meglio Taubes che parla del commento di Schmitt ai Romani contro la teologia politica di Agamben che non vede, secondo me, il punto nel suo commentario ai Romani. Sappiamo che la lettera ai Romani è importante per i giuristi, però o meno per la lettera, per lo spirito e per un po' di altre cosine così rilevanti dal punto di vista ermeneutico. Secondo me questo passo, il tentativo di commentario estetico-giuridico dell'epistola che sto concludendo si basa tutto su questo passo dove sostanzialmente troviamo questi due elementi, cioè l'economia trinitaria e l'economia. Allora, il primo punto è quello della conformità all'immagine tra il figlio e il padre. Quindi, come dire, una sorta di genealogia economica che passa attraverso l'immagine e che in qualche modo è fondativa. Secondo me questa ha una rilevanza normativa concernente il tema del fondamento estetico del diritto. La seconda parte, che ormai sta emergendo ovunque come problema giuridico, filosofico-giuridico significativo, è invece l'economia, cioè l'economia trinitaria, cioè il piano della salvezza. che appunto è quelli che predeterminò anche chiamò, quelli che chiamò anche giustificò, quelli che giustificò anche glorificò. E poi, che dire di più, che in genere viene spostato perché fa già parte del 31. Qui un po' di controversie tra cattolici e luterani su questi passi ci sono stati, naturalmente, ma a me quello che interessa è che l'economia ha una pluralità di significati. Cioè l'economia è un piano divino di salvezza. Cioè il fondamento stesso del discorso trinitario. Il padre, il figlio e la salvezza finale. Quindi tutto il tema della teologia politica. Ma attenzione, perché una delle traduzioni di oeconomia di Cicerone è disposizio. Cioè qualche cosa che ha una specifica rilevanza retorica. Cioè l'ordine del discorso, l'ordine del testo, l'ordine della temporalità, l'ordine della storia. Terzo elemento, il piano. Cioè il rapporto tra l'economia trinitaria che è un elemento teologico e invece l'economia. Cioè il piano economico. Addirittura, come dire, piano economico nel senso di pianificazione. Cioè l'economia nel dibattito attuale sulla teologia politica, che a me è un'espressione che non piace, preferisco teologia giuridica, emerge con tutta questa pluralità di significati. Quindi economica, testuale e governativa. In qualche modo. Cioè riferito al governo, all'ordine dell'amministrazione temporale. Il problema è come collegare questo tema o economico al tema economico. Cioè al tema dell'immagine e della normatività dell'immagine. E qui farò un riferimento, ma molto veloce, perché il tempo veramente non c'è, a un testo sull'icona, l'immagine e l'economia di Monzen che studia le origini bizantine dell'immaginario contemporaneo. Dove parla sostanzialmente della lotta, della guerra delle immagini, quindi iconoclasti e iconofili, traduce un testo di Niceforo, fa molte cose. L'idea è che l'economia è un concetto vuoto. In qualche modo un concetto evanescente. l'origine dell'evanescenza forse stessa. E quindi bisogna, secondo Monzen, cercare di precisarlo. Contro altre letture francesi in cui, come dire, invece si cercava di mantenere il carattere evanescente del concetto. una piccola citazione che ci fa capire qualche cosa, ma solo in modo molto dislocato e senza connessione logica. L'idea che l'incarnazione, cioè la parola che diventa carne, nella guerra tra icona e idolo, non debba essere confusa con una materializzazione. Cioè l'incarnazione non è un processo di materializzazione. Secondo Monzen, questo è il problema che emerge nella lotta tra iconoclasti e coinofili. L'accusa degli iconofili nei confronti degli iconoclasti è quella di avere perso il linguaggio dell'icona riducendola alla materialità della cosa. Allora, la mia tesi, certamente un po' ardita, ma è che una simile accusa si può essere rivolta al materialismo giuridico, espressione che lascio nella sua vaghezza, quasi come una provocazione, c'è un seminario e lo possiamo dire senza troppi scrupoli, come una forma di iconoclastia testuale, che perde l'idea della normatività iconica dell'immagine che è invece essenziale per comprendere il diritto. Rispetto al discorso che la relazione precedente, che ancora ringrazio perché veramente senza, non so come avrei potuto fare, io credo che la differenza fondamentale tra la letteratura e il diritto sia il giudicato, cioè il giudicato finzionale e il fatto, i giudisti sanno che è finzionale, ma a un certo punto il gioco finisce, quindi la semiosi illimitata finisce e qui c'è il diritto. Quindi la normatività iconica del diritto serve a questo, a chiudere in modo dogmatico quello che strutturalmente, testualmente è invece infinito. Quindi questa è la specificità dell'uso dell'immagine nel diritto che ha una matrice teologica perché il corpo suuris civilis viene da Giustiniano anche come dire se i nostri romanisti questo non lo dicono però è immerso fino al collo nella questione dell'immagine, nella preparazione della lotta all'immagine. E qui come dire in questi ultimi periodi di ricerca mi è stato molto utile per completare il mio percorso che era francese continentale il riferimento di Gudric alle iconuncole. qui ecco solo un riferimento una citazione da Mignie l'economia è governo io sostituirei l'economia è l'economia trinitaria cioè il piano di salvezza la disposizione retorica l'economia come economia moderna è certamente a che fare con il governo io direi l'economia è governance anche qui ancora una volta citiamo l'andronico già citato in questo che penalizziamo per la sua assenza citandolo due volte e dicendo sostanzialmente questo cioè l'economia è un concetto vuoto questa è una cosa che appunto Alberto nel libro non quello su Derrida ma sulla governance dice in modo molto chiaro lo soft law molte cose che dicevano ieri rientrano secondo me all'interno di questo punto ma per il resto possiamo saltare anche se la questione della manifestazione visibile certamente è rilevante da questo punto di vista cioè incarnarsi e vuotarsi kenosis del logos o meglio e qui ritorno sulla citazione di 829 diventare simile alla propria immagine cioè l'immagine del figlio legata all'immagine del padre in una struttura genealogica in senso genealogico certamente non solo niciano fucoltiano ma in senso specificamente legendriano e oserei dire cristologico quindi appunto anche qui come dire come i tre minuti della tesi di Lione uno slogan l'innome di cosa vuol dire estetica giuridica vuol dire che accanto alla struttura dell'innome di il mandato la rappresentanza c'è una rilevanza giuridica a immagine di questo è semplicemente l'idea cioè che la relazione iconica è una relazione normativamente significativa quindi il mandato è l'icona dove però appunto l'icona non è l'immagine l'icona è come dire e qui vengo a Gudric per tradurlo in giuridichese in salsa anglosassone arrivo subito a questa immagine poi torno un momento indietro abbiamo qui due devo saltare la parte un po' più teologica però faccio riferimento alla parte invece giuridica abbiamo qui due immagini innomine domine cioè un'immagine presa dal commento senneton al corpus iuris civili più o meno nello stesso arco in cui Alciato e altri appunto Lione e Custò e altri rappresentano e raffigurano il corpus iuris civili e abbiamo nella prima immagine che è come dire il corpus iuris civilis l'idea dell'innome di cioè Giustiniano che ordina agli scribi in nome del dio cristiano nella Trinità perché questo è l'incipit del corpus iuris del dio augutore di scrivere quindi con un meccanismo che è quello dell'innome di Giustiniano in nome di Dio e gli scribi in nome di Giustiniano Seconda quindi questo è il classico poi qui è molto interessante appunto vedere il tema della composizione Secondo elemento la consuetudine e qui il lavoro di Gudric è effettivamente interessante l'immagine precede lo scritto e ciò che è scritto è solo un secondo momento dell'attività di produrre immagini cioè dell'iconicità del testo è interessante che uno che lavori su Derrida dica questo sì il è finito? no insomma sei sporato un po' ma finisco subito concludo immediatamente l'immagine stampata è semplicemente un segno figurativo vale a dire la consuetudine è l'immagine di una normatività iconica e questo si vede nella nel riferimento nella stessa immagine di Dworkin lavora sul gioco della natura cioè la natura è consuetudine e la consuetudine è iconica e in questo senso appunto il mio discorso e quello su cui sto lavorando è l'idea di un umanismo giuridico che parte da Petrarch e qui chiaramente voglio dire c'è il riferimento razionale e che arriva fino a Vico attraverso attraverso alciato senza riferimento naturalmente a Maritain e a queste altre forme di umanismo diciamo gius naturalistico di tutto altro genere chiedo scusa è sempre complicato dover interrompere una comunicazione molto interessante che tra l'altro si collega a varie cose prego siccome no e dopo due chiarimenti su due punti non so se sono passaggi importanti nel contesto del del tuo argomento insomma però il primo è quando hai fatto riferimento a a OBS scusami a Bobbio che commenta OBS e afferma che con OBS il consiglio viene diciamo fatto fuori non sono molto d'accordo quando invece tu sovrapponi il consiglio al soft law e alla governance perché per l'idea che ho io che probabilmente è anche sbagliata ma il soft law è la cosa più lontana secondo me dal consiglio perché il soft law è una dimensione in cui il dovere è così evanescente per continuare con il termine che potenzia il dovere in un certo senso quando il dovere non è determinato ma diventa soft è un diritto ancora più quindi credo che consiglio il soft law sono cose che vada molto distinte invece poi mi interessa molto di più e penso sia più centrale nel tuo discorso quando è affermato in maniera molto apodittica che la differenza tra termeneutica giudica e termeneutica diciamo letteraria in senso ampio sta nel fatto che nel diritto c'è una fine il giudicato chiude però secondo me questa non è una differenza però chiedo anche l'aiuto della professoressa nel senso che non sono sicuro di quello che dico ma se questo è vero se questo è vero dovremmo dire che anche Bernstein che dirige Mozart chiude in senso episodico la faccenda ma Muti può tranquillamente ricominciare su quello sparito e creare un'altra interpretazione quindi il giudicato per me non chiude il giudicato in senso episodico chiude ma quella norma può essere ovviamente reinterpretata quindi non penso che si dà qui la differenza perché c'è un giudicato anche nella musica che chiude l'episodio di quel contesto interpretativo ma non esclude che un altro processo con quelle norme abbia un altro esito non so se mi sono spiegato grazie paolo molto semplice e rapidissimo mi scuserai se resta dietro al tuo intervento quando si dice immagine e somiglianza di che rapporto c'è fra l'essere simile un'immagine noi pensiamo che se un'immagine è simile quella immagine e somiglianza reitra qualcosa è qualcosa di diverso a me viene in mente quando si dice vuole e non vuole essere chiamato Dio no? la stessa cosa? Maurizio se potessi delucidare meglio la questione del mandato tu hai detto c'è il mandato nella misura del in nome di e nella misura del ad immagine di se potessi chiarirmi meglio questo aspetto la relazione è intrigante e quindi una domanda intrigata si è parlato di consiglio e di comando in relazione a Bobbio si parlava di Bobbio ecco mi è venuto l'intrigo da questo che Bobbio fa proprio delle osservazioni in riferimento al consiglio e al comando in questo senso che il consiglio resta un consiglio anche se non viene seguito il comando resta un comando anche se non viene obbedito lui lo fa in relazione alla persuasione per dire che forse invece la persuasione deve essere efficace però mi è venuto in mente questo abbinamento Bobbio che parla di consiglio e di comando è semplicemente una ripeto il sapere procede anche per associazione mi è venuta questa associazione se hai qualcosa da dire a riguardo mi intrigherà ancora di più grazie dovete scusarmi non ho ancora imparato i vostri nomi quindi devo deissi performativa deissi performativa sì io invece no volevo solo chiedere a Paolo se nella nozione di oeconomia era inclusa anche diciamo tutta quella tradizione dell'umanesimo in particolar modo che nasce proprio in Italia poi si espande un po' in Europa sulla trattatistica sull'oeconomia come governo della casa che in quel caso poi è un po' anche all'origine dell'economia politica moderna che non a caso appunto acquisisce l'aggettivazione politica a partire dall'oeconomia in cui il politico è appunto il governo della casa applicato alla polis anche se poi questo si è perso però l'oeconomia da quel punto di vista è certamente credo ma chiedo Paolo conferma c'è certamente una forma di disposizio cioè la gestione della casa è sicuramente il management della casa è sicuramente una forma di disposizio di organizzazione delle cose dei beni degli schiavi all'epoca ovviamente dei figli insomma la pianificazione del patrimonio eccetera eccetera e c'era anche questo elemento di piano sicuramente però siccome di questa tradizione di fatto non ne parla mai nessuno anche se poi secondo me bisognerebbe un po' capire non è che sia particolarmente interessato alla storia dell'edema c'è all'origine diciamo dell'economia politica moderna questo elemento di oeconomia e niente volevo capire solo questo cioè se appunto in quella nozione di oeconomia c'era anche questo aspetto che poi si in alcuni casi è diventata una nozione di buon governo tradotta come buon governo della casa e così via buon governo della polis eccetera eccetera allora devo dire che ci sono altre due persone che hanno chiesto di intervenire tre persone che hanno chiesto di intervenire vi pregherei di essere brevi perché abbiamo già un po' sforato con i tempi chiedo il concetto di incarnazione per cortesia è il rapporto tra incarnazione e immagine o meglio tra Giovanni 1.14 e Genesi 1.26 27 perché poi il gioco a livello testuale è tutto lì senza coinvolgere Filippesi che lei ha citato la Kenosi e quella è Filippesi 2.6 vedere un pochino veramente in pochissimi secondi se è possibile so che è veramente difficilissimo però ecco è veramente incarnazione ha toccato un qualcosa di veramente fondamentale grazie una cosa estremamente rapida tu sai che io conosco bene le tue tesi Paolo voglio semplicemente chiederti in un passaggio tu hai detto l'icona è normativamente significativa rilevante e vincolante ecco mi puoi spiegare meglio esplicitare meglio questa cosa come si articola questa diciamo rilevanza normativa Aldo sì Paolo brevemente intanto una cosa anch'io sul giudicato sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Andrea Primo ma prima ma anche l'idea che il giudicato abbia un ruolo centrale nell'interpretazione giuridica presuppone una certa concezione del diritto diciamo tra virgolette patologica che non è diciamo l'unico aspetto secondo me è l'unica possibile poi un'altra tu hai parlato del materialismo giuridico ovviamente vorrei che spiegassi intuisco a cosa ti puoi riferire avevo una domanda però sul ruolo iconico nel diritto il ruolo estetico nel diritto ma non credi che per esempio alcune concezioni tra virgolette positivistiche del diritto anche se non normativistiche penso alcune versioni del realismo giuridico scandinavo diano una importanza cruciale alle immagini penso l'unstet olive crone e così via al ruolo magico nella creazione e nell'autorappresentazione del diritto dunque allora c'è ancora una domanda aveva chiesto molto prima però obbligatoriamente l'ultima evidentemente ha suscitato molto interesse per parte mia riformulo in brevissimo ma non sarò capito questo purtroppo è inevitabile in questa associazione che tu fai dal mandato all'icona in nome di a immagine di mi sembra che sia la struttura del mandato sia la struttura dell'icona con tutte le differenze che vogliamo fare sottintendono un riferimento un riferimento univoco e determinabile e un riferimento di natura personale l'immagine di in nome di la tendenza del riferimento oggi mi sembra ma lo vedo dal punto di vista dell'in nome di sia quella di scomparire di non farsi riconoscere non a caso le corti che contano di più oggi non dicono più in nome di chi giudicano penso al corte europeo non si può più dire in nome del popolo quale popolo e in realtà neanche in nome della legge mi fai immaginare come questa impalpabilità questa evanescenza del riferimento che ha delle ragioni storiche ben precise potrebbe essere corretta dalla logica iconica di a immagine di me lo fai immaginare perché non non lo immagino ecco grazie mi dispiace ma altre due interventi ma non c'è spazio perché grazie dunque prima risposta Giovanni l'icona l'icona è diciamo è un tipo di 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 normatività rivelativa cioè le icone russe non sono fatte da mani d'uomo quindi come dire hanno un potenziale rivelativo per questo motivo allora qui nell'immagine di Gudrich tradotta in giuridico abbiamo come dire a differenza degli scrivi che scrivono con le mani abbiamo qualcuno che scrive con i piedi notare il riferimento al piede cioè al sentiero alla consuetudine intesa come forma di naturalità e lì c'è dietro tutta la questione delle immagini non a mano d'uomo che ritroviamo in Dworkin l'immagine naturalistica di Dworkin è la stessa di questa secondo Gudrich quindi chiaramente qui ci siamo confrontati a una riarticolazione del rapporto tra diritto economia che significa tra comando e consiglio ma che significa anche tra consuetudine e qui certamente il discorso aiechiano e questi temi qui diciamo di liberalismo hanno qualche senso e positivismo statualistico da questo punto di vista il tema del soft law sono d'accordo con te cioè io il tema sarebbe molto più complesso dovremmo discutere specificamente governance non è soft law e teoria reticolare del diritto non è tutto questo quello che mi sembra molto interessante nell'idea di Bobbio e cerco di rispondere anche a lui è l'idea in qualche modo è la percezione che lui ha molto preciso che il positivismo all'origine della sua crisi si perde si perde un pezzo si perde qualche cosa che nella tradizione precedente continentale anglosassone c'era e che in qualche modo bisogna trovare il modo di rintrodurre e la retorica è certamente interessante da questo punto di vista all'interno del discorso per questo come dire Alciato e Boudet sono come dire degli interpreti razionalistici del corpus quindi questo è quello che mi interessa poi sono d'accordo con te cioè bisognerebbe fare un lavoro molto più specifico però l'idea di fondo è questa cioè ci sono due settori che sono ampi qui viene fuori la questione con cui prima o poi convito spero di riuscire a venire a no che è quella dell'analogia cioè dietro tutto questo c'è il lavoro di Bobbio sull'analogia e sulla liquidazione che lui fa di tutta la tradizione analogica atomistica precedente e lì chiaramente ciò voglio dire in questo momento c'è un nesso complicato e aggravato dalla questione dell'immagine perché io non penso che l'immagine sia solo positiva cioè l'immagine può essere idolo e può essere icona però certo è l'immagine di un qualche cosa che la tradizione ha dato a cui ha dato il nome di consuetudine e non di consuetudine subordinata al diritto positivo statuale ma qualcosa di radicalmente diverso allora io non dico che questa è la ripresa del giusnaturalismo però certamente ha a che fare con questo tema cioè il giusnaturalismo o è iconico o non è e questo consente di dire in qualche modo che dopo il Vaticano II la reinterpretazione del piano divino della salvezza è cristologica cioè è specifica è puntuale e questo chiaramente apre tutta una serie di problemi molto complicati e molto complessi in cui certamente Giovanni e i tre sinottici entrano in una dialettica composta in cui c'entrano Paolo e Agostino alla domanda di Giovanni non so neanch'io rispondere mi aiuterà a Paolo sì certo l'ordine della casa l'ordine della casa Robilante parla di ordine della casa la tradizione dell'origine dell'economia ma su queste cose sei molto sei molto di più tu cioè io in realtà oggi non ho fatto che ripetere in forma articolata l'obiezione che ho fatto ieri ad Aldo cioè dicendo guardate che come dire qui c'è un problema di secolarizzazione del diritto a cui non possiamo più solo fare fronte nella società dell'immagine e della virtualità con gli strumenti del positivismo altrimenti come dire rimaniamo appunto alla Guastini come dire isolati nel dire non ci leggono ma qualcosa del significato secondo me etico della filosofia del diritto del suo ruolo si perde almeno questa è come dire la mia umilissima posizione non ho sicuramente risposto a qualcuno e chiedo scusa allora io ringrazio ringrazio Paolo e a questo punto inviterei Frank Zenker a venire e a questo punto like to welcome him e obviously we are going to speak english e do it in english the the floor is yours and you can also sit down imagine o oh oh yeah ok yes tell you let you know ok sure in in the abstract something like geared to the legal scholar if my client had been at the crime scene then he might be guilty but he wasn't at the crime scene so he probably isn't or something closer to home like this if the lights are on then someone's probably at home but the lights are out so probably nobody is at home and as you look at these and as you find these to be arguments and as you find these to be sort of differentially persuasive or so I hope to show in these 17 minutes that remain maybe you will have used information that is not there you will have brought information from background knowledge and the overall message is to evaluate these arguments you have to provide more than what's there on the surface form and that little more can be given a probabilistic representation and as one goes about the nitty gritty and studies it these things become very clear in terms of this should persuade you and this should not persuade you always given assumptions that can be discussed and criticized okay so I hope to end up with a projection of these things onto something this if a then c not a so probably not c and then probabilistic terms that means that the probability of the consequent of c given the antecedent is somewhere between 0 and 1 your next move here the not a is the probability of a equals 0 therefore the probability of the negation of the consequent will be greater than 0.5 and 0.5 happens to be the conventionally accepted threshold for probabilistic support you can use other thresholds okay now I have to hurry up because I have quite a few slides so I will show you modus ponens this guy here modus tollens denying the antecedent and affirming the consequent which you will know as formal fallacies I will say something against the strategy of conditional perfection which says that if you see something like an if in a natural language material then you would project it onto this one compared to if and only if it is one way of making sure that a natural language material that is worse than it looks becomes better by interpreting as a bi-conditional I'll argue against it okay then in the second part I'll evaluate denying the antecedent probabilistically we'll get there then in part three say something about the effects of re versus subtracting that's a dialectical setting where somebody has said something you have to respond there are two distinct effects it's good to know which it is what they're doing and in four I'll hope to provide a visualization this is something that I think we don't have anything really good at the moment I have not seen any good visualization of probabilities of these relations that would help in teaching and I think it's a gap that should be developed and the critical questions basically say that given the probability model as visualized or not the critical questions fall out of the probability model okay good my thesis is that the is two to one meaning for every devil there's half a detail for every detail two devils this is involved it's not easy at all the denying that decedent in a probabilized version can be a valid inference probabilistic valid the same for affirming the consequent but it depends on the probability values and then there's more I'll show this later okay now if you accept this please as if A than C yeah and you accept anything in the circle as the premise set and this would be your conclusion or the consequent so then you can use A and this guy to get to C that's called modus ponent okay you can take non C and get to non A that's called modus tollent you can take non A over there and try to infer non C that's denying the antecedent you can take you want to get to C by using A that's affirming the consequent and it's fairly clear that anything on this side of the line here will be a deductively invalid inference yeah if you like deductive logic anything down here will be a deductively valid inference okay up so far now if you now replace the A than C with a bi conditional yeah this guy here becomes this guy the effect is fairly clear all of this will be valid yeah will be deductively valid inferences and that's the standard account that you hear you know not from every linguist but from every other perhaps that very often in natural language we say if then but we mean if and only if yeah and so therefore you can interpret it in this way and hence all these things that look like fallacies no longer are fallacies okay why is this a fallacy if you do it this is the truth table for a then c yeah basically modus ponens appears here in this line modus tollens happens down here since you have this little thing in the truth table you cannot do affirming the consequent or denying the antecedent that's just how it is now compare this the other guy here this has changed if I go back this was a one here becomes a zero so now that this line is unblocked you can do modus ponens and affirming the consequent in this line and modus tollens down here yeah that's the basic reason why these things are either fallacies deductively understood or not okay now the conditional perfection account will tell you okay this is as happens on interlanguage material this is how we interpret it yeah the result is that the formal fallacies da and ac they disappear so your textual evidence is reinstated it is made to be a little better than it looks two objections okay so just to say it's all pragmatic yeah that's how we use language will I think demand too much charity you will end up over interpreting the material that you have and it will only work I think for where are we now yeah for indicative conditionals so where the probability of that conditional is given by the probability of the conditional on the antecedent and this will be one if you generalize this to cases where you're down here where zero is smaller or equal to that thingy and this is also lower than one so if you so two so yeah I say I want to evaluate denying the antecedent dialectically that sounds grandish it just means I imagine two people a proponent and an opponent the proponent says something and the opponent reacts to it and the question is what follows from it okay so these are the four inference modes again this is modus opponent opponents if you bring this into probabilistic form it looks like this call this the original this is denying the antecedent yeah it's the inverse of the original this is modus tolendo tolens called the obverse and down here is affirming the consequent called the converse now I really want to just focus on one of them namely denying the antecedent yeah so let's forget about those and now let's move try to move over the probabilities so what happens here is I just stick in the term probably and I try to make these things general so this will vary between zero and one yeah the same here now I imagine a scenario that goes as follows yeah I call that a dialectical scenario here's a proponent yeah the proponent has an initial belief in the consequence sorry this is the final belief of the proponent in the consequent the proponent claims that his initial belief in the consequent given the antecedent is this one here this is greater than his initial belief in the consequent and the proponent says that the antecedent is true yeah so it's one in natural language it reads a makes c more probable this is this part yeah and a is the case that's this part okay now you imagine an opponent and the opponent responds well that's all very fine but the probability of non a is one meaning a is false so this reads a is not the case the question then becomes what is the commitment of the proponent with respect to the probability in the conclusion yeah and the probability of conclusion is always one minus the probability in the negation of the conclusion to go through this is quite involved yeah I'm not expecting too many people here to understand what I will do just to show how difficult is to actually show it so this one says here that the final probability in the consequent F for final yeah is given by the conditional probability in the consequent conditional on the antecedent and that's greater than my initial belief in the consequent that's a proponent commitment you then invoke the principle of conditionalization which says that the probability of C on A is given by the conjunction probability of this eventually yields base theorem of which you might have heard it's very hip these days you cannot really use it here because you deal with the end points 0 and 1 and base theorem only covers anything between that is not 0 and not 1 it's not necessarily causal no it's just a logical conjunction okay so this year if this was the proponent commitment then this becomes the opponent commitment the opponent is committed to saying that the probability of the negation of the consequent is given by the conditional probability of not c on not a and this should be greater than probability of not c yeah I call this an opponent commitment it's a contingent relation I will say something about this later and notice that we deal with the end points in this case yeah so for this case here since it's a generalization of Bayes theorem and here you assume for the case that the probability of a is 1 now if a is 1 then non a is 0 if non a is 0 then anything that you multiply with non a will go to 0 as well and only this term will be left over so the next line looks like this yeah it's just the same here basically this line is this line for the case of PA 1 this term drops out now here you introduce a threshold you say this term will be greater than t for the case that PA is 1 now you make an assumption of relevance I know it's hard to follow you make an assumption of relevance on behalf of the proponent that says if non a also raise the probability of the consequent then we will leave to make sense out of what it is that the opponent does in this move now once you have solved this then you can look at the other case here we looked at the probability of a being 1 now the probability of a is 0 this term dropped out now the other term will drop out which is this one these terms are just the same this and this and which is this one okay now I'm sure I've lost all of you the point was to show how involved it is to go there okay good now what comes out of this is this the commitment effect what you might call the cogency of the opponent's move they need to claim that the probability of the antecedent is 0 depends on the initial proponent commitment which you have here and the assumption of relevance AR on the last slide namely that the probability of C given non A is greater or equal to the threshold for that standard threshold of probabilistic support of 0.5 if you accept this then you can say besides what the proponent had claimed overtly in the argument the proponent would have had to be committed also to this thing here so that is an assumption that you work that PA0 entails the probability of C being greater than probability of not C that's what the opponent wanted to do in the end by saying that A is false I'll gladly explain that to anyone over dinner it's going to take half an hour three there are distinct effects of subtracting versus retracting a claim that you have made if you deal with this in probabilistic version and then in second slide I'll say something about linguistic versus logical form of probability statement so imagine that you have been saying that the probability of A is 1 now you have two options you can retract meaning you go to a position where you say the probability of A falls somewhere between 0 up to 1 but not including 1 that means you are not committed to anything that falls in this interval if you subtract that means you go to 0 so that means A is false if you try to remember that the opponent said the probability of C is the probability of C conditional on A which is greater than C and he had claimed that the probability of A is 1 with retraction then you go back to this position where the probability of C is the initial probability of C but A is just a different value from 1 meaning anything between 0 except for 1 and in subtraction you suddenly asked to compare this term here the probability of C on non A shall be compared to probability of C but that's something that the proponent had never said anything about in natural language material but because the opponent asked that person to retract A the proponent is now committed or has to say something about his commitment as to this one one slide you see here natural language forms A makes C antecedent makes a consequent more probable thank you A makes C more probable than not the consequent A makes C more probable than not the consequent given the antecedent A makes C more probable than not C given not A all these things have distinct representations and they are independent meaning if we use the term probability in our natural language and we are bound to an interpretation of probability in the Pascalian interpretation which is subjective degrees of belief we better be sure what it is that we mean and hence by studying these representations we should be allowed to become more precise in our natural language as we express probabilities mind too that most of us are very bad probabilities it's just a fact people are not very good without any training good that was the third part now what I want to show is that it's possible to visualize at least to some extent and I hope it will be beneficial in teaching what it means to go from logic which most of us are familiar with to some extent to probabilities yeah so starting easy I hope that's easy if you please accept this as a visualization of this statement down here so a then c and not a then not c if and only if a then c so this thing is a tautology meaning this plus this expresses the same meaning as this if understood truth functionally so now you could say I can go from a to c because I have an overlap here and these are nicely and from a to not c so this is a visualization then therefore of a if and only if c if you bring this in the probabilistic case you say this by the probability of c given a is one probability of c given non a is zero because there is not a situation where c has any boundary with non a yeah they are clearly distinct so from here if you please have a look at this inner circle now I'm trying to turn the circle just a bit to make sure what happens when probabilities occur slightly tilted and these things have all changed now so I'll go back this was the initial thing that you know from classical logic where there is no exceptions to any conditional now that you move over these things all change the equalities go away and become C on non A will be this guy down here probability of non C on non A will be over here and probability of non C on A will be this one so this is now symmetrical they haven't changed proportions but you could of course also have something like this where the proportions have changed so this is the case where you can very often go from A to C but sometimes actually quite often too you can go from not A to C and in a very few cases you can go from not A to not C so more fancy yet if this is solved by mathematical terms this is a visualization that comes from Oxford and Cater and mind you this is not exactly young yeah that's now more than 14 15 years but it hasn't really gotten into teaching they show modus tollens and will only look at this one which is denying the antecedent so what you set up here is you set probability values for the antecedent going from 1 3 5 7 to 9 you try to measure the probability of the consequent and you ask yourself what's the probability that the consequent is false given that the antecedent is false to do this you fix a parameter down here called epsilon the probability of not c on a being 25 this is also called as the rate of exceptions to if a then c and if you solve this it looks a bit like this the interesting line is this one here that's the threshold of probabilistic support so whenever the values go here between 0.5 and 1 then denying the antecedent namely this expression is an argument that should convince you for these probability values so the critical questions will follow from the behavior of the probability model for modus ponens that's fairly straightforward it's an easy easier the probability of c on a is just the inverse 1 minus p non c on a if you deal with these things modus tollens denying the antecedent and affirming the consequent they depend on additional probability values that for the most part you will not find in the natural language material so you have to infer them conversely if an audience finds these arguments persuasive that audience very likely will have supplied the relevant probability values so they're not always given the critical questions asked basically for these two statements here this is what I tried to show it's involved I apologize this is the thesis for every detail two devils if you like the slides please email me and I'll have them forward to you thank you very much I think that a lot of us feel that if we had the paper before we could have followed better at least I am fairly displaced in my understanding of this you know it was complex and I confess that I could follow only up to a certain point but anyways maybe there are some logicians better than me who metabolized faster all the information yes Federico please thank you Frank may you come back to your presentation one of the first slides when you say that let's go back go back go back okay okay the next one okay it's the same well you say that we have we speak about probability but we have no probability about a we are sure about a if I understand but what does it change if we are not sure about a does your model work also with this problem or not thank you thank you I want to ask you what do you mean by commitment and if you can explain me why the commitment of the opponent should depend on the commitment of the proponent it seems to me that you have said that this and there is a slide where this seems to be shown thank you thank you Frank for this interesting presentation can you go back to one of the first slides with the examples that you gave also in the abstract because basically you gave an explanation of this difference that is with formal logic I was wondering whether and maybe you do it with all this formula but whether there is also important to consider the semantics of the terms that are used in this syllogism because I was thinking if I understood that for example it's very important to understand whether when you deny A this negation A and non-A are opposite in a contradictory sense or simply in a contrary sense it seems to me important because for example if I say if someone was born in Rome then probably speaks Italian then Rudy was not born in Rome then probably doesn't speak Italian we see that this it doesn't make sense because there are many many Italian and non-Italian cities that makes probable that you speak Italian while if A and non-A are contradictory then of course if the probability of A is higher than 0.5 I agree with you probably can mean this the probability of the contradiction must be 1-P which is inferior to 0.5 and in this case it means that the measure premise implies another measure premise of a fully deductive modus ponens reasoning so I was wondering whether by considering the semantic value of the terms we can find certain interesting aspect thank you please so you can hear me okay so my only concern is with you saying that if the probability is over 0.5 that it should convince you so I'm wondering if you can formalize or just look at the same problem from the perspective of judicial decision making where you said that if probabilities is under one then it is the verdict not guilty then the verdict is not guilty or something like that not proven so this is my only question I'll try this one now let's see how that works okay this will be difficult to get all this together so maybe the last one first should should a judge or a jury reason like this on the probability model maybe I'm not sure so this it is a model that can explain certain empirical data about arguments that participants find persuasive now insofar as a law court is also a situation where it's about persuasion you might argue that the model also applies there if it should become a normative model for legal evaluation I'm not prepared to say that and there are cases that speak against it and this is more involved so I would not simply say yes to that yes okay the case where the probability yeah this way so you are here so this says the probability of a is zero yeah so that that's a limiting case it's either a zero or one and if this is the if it's zero then the probability of non a must be one so then I'm looking at the extremal cases so that's Fidiko's question and the model works as you can see in the last slide again this is involved yes as you can see and I shouldn't pretend that I came up with this in 15 minutes it's work of over a year so so this is the case where it works for all values in between so yeah anything that goes from zero to one up to here can be modeled so therefore any degree of belief or any prior conviction in a certain statement that is not one or not zero maybe 0.5 maybe 0.7 can be modeled on this yeah definitely your question why would the commitment of the opponent depend on what the proponent has done it need not so for the case here the assumption is that the proponent makes an argument that says if P then Q or if A then C and A is the case so therefore C has become more probable and I simply assume for the sake of the case if you like that the opponent accepts this maybe because it's a nice person maybe because he or she is not up to speed I don't know you can make up a reason why that would happen so it's simply to try to trace the effects and also the options that the opponent could have by making that move and as I hope to have shown is that the opponent has at least these two possibilities one is to subtract and the other is to retract and if you subtract that means you accept what the other one has said if you retract it's a slightly different option and you give yourself more degrees of freedom but it's merely for the case the opponent can do all kinds of other things the model does not dictate that semantics the contrary and the contradictory yes I strongly agree in this model you assume that they are contradictory and if they are not then of course you have all kinds of different problems okay I think that we should move on to the next speaker because we are already slightly late thank you very much as I said it was very rich and we all wish we had the script beforehand anyways it's now the turn of Sara Greco Morasso and Rudy Palmieri who come from the University de la Svizzera Italiana wherever you want to sit here there do you have slides or okay oh great ah ah si or may have mess il piloto automatico con l'inglese disautomatizzo il pilota e torniamo all'italiano all'alto si Grazie. Sì, direi di cominciare che siamo già un po' in ritardo. Comincio. Allora, come vedete dal titolo, oggi parleremo di un caso di studio che ha a che fare con l'argomentazione delle istituzioni, tematica su cui all'Università della Svizzera italiana abbiamo un corso della laurea specialistica. Si tratta, come sempre potete inferire dal titolo, di un caso svizzero per questo incaricato federale, però con una tematica di più ampio interesse, quindi appunto la protezione dei dati e la trasparenza. Perché questo caso? Perché appunto si tratta di argomentazione istituzionale che però ha degli aspetti giuridici, questo noi non siamo giuristi ma lo dico più come desiderio di dialogo con i presenti, e ha degli aspetti legati alla prevenzione, alla soluzione del conflitto in termini di pratiche di risoluzione alternativa del conflitto. Partiamo proprio da questo, cioè il ruolo dell'argomentazione nelle istituzioni e, grazie, è giusto avere la giusta identità, e la risoluzione del conflitto. Allora, l'argomentazione nelle istituzioni può avere funzioni diverse, evidentemente c'è un'argomentazione anche nella fondazione di un'istituzione, perché quando si crea una nuova realtà questo va giustificato, però l'argomentazione interviene anche proprio nella routine, nella gestione delle istituzioni, e anche in casi di crisi. Il conflitto è sicuramente un caso di crisi, perché il conflitto entra in un certo campo di interazione, quindi entra in una certa istituzione, mette in discussione quelle che sono normalmente le relazioni istituzionali e anche interpersonali, e quindi crea uno stato di potenziale pericolo. E ha ovviamente dei costi economici, ed è anche dei costi di salute dell'istituzione stessa, cioè al limite il conflitto può distruggere un'istituzione. E proprio per questo ci sono ormai da tempo in diverse istituzioni delle pratiche di risoluzione del conflitto, che molto spesso tentano di evitare il ricorso alla giustizia ordinaria, che sono appunto le pratiche di risoluzione alternativa delle controversie. Questo perché spesso, ma lo possiamo immaginare anche a livello interpersonale, non solo nelle istituzioni, cioè un tipico caso del conflitto di vicinato, per esempio, certamente se due persone hanno un conflitto relativo al diritto civile, ricorrere al tribunale significa molto spesso, per ragioni di costi, di tempi, un deterioramento della relazione. In alcuni casi questo non ce lo si può permettere. Anche a livello istituzionale ci sono spesso figure deputate alla prevenzione o alla risoluzione del conflitto. E questo è il caso dell'incaricato federale per la protezione dei dati per la trasparenza, che è appunto un'istituzione, è una persona, ma è anche un'istituzione in Svizzera, che si occupa di protezione dei dati e di trasparenza e interviene in questi casi, quindi fa parte della sua routine, argomentare per eliminare potenziali conflitti tra le istituzioni e i cittadini. Il caso che trattiamo oggi riguarda appunto un caso di protezione dei dati, che ha a che fare con una telecamera di sorveglianza che come vedremo non ha un vero scopo, una ragione di esistere. Questo è l'incaricato federale, si chiama Hans-Peter Thur, è in carica dal 2001 e poi dal 2006 è stata aggiunta una legge sulla trasparenza e quindi lui ha assunto anche questo incarico. Appunto dicevo, l'incaricato è una persona e poi è anche un'istituzione, nel senso che ci sono poi ovviamente dei collaboratori specializzati anche con diversi aspetti del diritto. La sua prima funzione è quella appunto di verificare la protezione dei dati e in questo campo lui può avviare delle procedure di chiarimento dei fatti e emanare raccomandazioni, quindi un ruolo molto simile a quello che è noto come ombudsman, cioè questa figura istituzionale che ha appunto il potere di investigare e poi di scrivere delle raccomandazioni che non sono, a cui la persona a cui sono rivolte non è tenuta a seguire, che però hanno poi delle conseguenze, questo lo vedremo. Poi dal punto di vista della trasparenza si occupa appunto del rapporto tra cittadini e istituzioni e funge anche da mediatore nel caso ci siano dei conflitti, quindi ha questa doppia funzione di risoluzione del conflitto in caso ci sia un conflitto, ma anche di prevenzione perché nella parte di protezione dei dati spesso l'incaricato federale previene per esempio l'iter giuridico nel senso che evita che venga asporta una genuncia anche penale ed è il caso di cui tratteremo oggi. Il caso riguarda, dopo ne parlerà il mio collega, comunque riguarda la presenza di una telecamera all'interno di uno chalet svizzero che viene uno chalet pubblico nel senso che viene normalmente affittato a gruppi per vacanze e il tema su cui si argomenta, quindi la issue, è se la telecamera sia conforme alla legge per la protezione dei dati e se rispetti il principio di proporzionalità. Di per sé viene chiamata telecamera di sorveglianza, quindi se c'è una ragione precisa, una giustificazione sufficiente per questa tecnologia all'interno dello chalet. L'incaricato viene a conoscenza nel 2008 di questa telecamera, apre una procedura autonoma, nel senso che non c'è una denuncia formale di chiarimento dei fatti e in seguito a mancate comunicazioni con il proprietario dello chalet, nel senso che non c'è una vera e propria comunicazione, perché lui si rifiuta di rispondere ai messaggi, emana una raccomandazione nel 2009. Questa raccomandazione, se non sarà seguita, potrà essere depositata dallo stesso incaricato presso il Tribunale Amministrativo Federale, quindi a quel punto poi la cosa passerebbe nelle mani del Tribunale. Per questo, per questo doppio passaggio, ecco la raccomandazione, ma se non la segui finisce in Tribunale, dobbiamo valutare in questo caso cosa si intenda veramente per raccomandazione. Nel senso che noi nel linguaggio ordinario intendiamo per raccomandazione qualcosa molto vicino a un consiglio, qualcosa di benevolo. In questo caso la raccomandazione è più vicino, semanticamente, all'avvertimento se non alla minaccia. Qui abbiamo deciso di applicare, in relazione alla teoria della congruità elaborata da Rigotti e Rocci, un tipo di analisi che vi leggo brevemente, vi descrivo questo schema. I fattori coinvolti in questa raccomandazione sono 7, cioè X1, che è in questo caso il caricato federale, ma in ogni caso deve essere un soggetto che comunica a X3, un altro soggetto, tra X1 e X3 deve sussistere una relazione di asimmetria. X1 comunica a X3 che cosa? Una situazione di obbligo, cioè una situazione forzata, un'alternativa, un'alternativa che è forzata, quindi X4 l'alternativa. L'alternativa è questa, o X3 applica le misure indicate nella raccomandazione, quindi qua sono a X7, vediamo se riesco a usare questo. questo, sì, o X3 applica le misure indicate, oppure X1 denuncerà al Tribunale Amministrativo Federale X3, perché? Perché X3 ha svolto attività contrarie all'articolo 29 della legge della protezione dei dati, quindi X6. Quindi questa alternativa, come dicevo, è forzata, non ci sono vie d'uscita. In questo senso, se voi vedete, io ho già descritto alcune delle presupposizioni, appunto ci deve essere una asimmetria tra X1 e X3, eccetera, le implicazioni sono che X3 viene informato da X1 che accadrà X5 a meno che X7, a meno che lui cambi, quindi smetta di, accadrà questo avviso al Tribunale Amministrativo Federale. E qui abbiamo appunto, è valutato questa cosa semanticamente, ma è importante dire che la forza della raccomandazione, trattino minaccia, dipende da com'è forte l'argomentazione, perché l'incaricato presenta eventualmente al Tribunale un testo molto argomentato sulle ragioni per cui X3 avrebbe leso la legge, in questo caso il signor Jay avrebbe leso la legge. E la forza di questa argomentazione passa direttamente al giudice che dovrà decidere in Tribunale. In questo, l'incaricato federale è molto simile alla figura dell'ombudsman, perché anche l'ombudsman istituzionale, come per esempio c'è ormai in molte istituzioni, tra cui l'Unione Europea, scrive una raccomandazione che non è vincolante legalmente, però molto spesso questa raccomandazione può passare poi a un Tribunale, quindi il senso di questa pratica è che la forza degli argomenti si trasmette poi dopo e questa è la forza della minaccia. Vale la pena quindi di passare subito la parola al mio collega Rudy per analizzare proprio nel dettaglio qual è in questo caso la struttura dell'argomentazione proposta dall'incaricato. Grazie Sara che è stata bravissima nei tempi, dovrò cercare di fare altrettanto. Avete ricevuto tutti il testo intero della raccomandazione, è una raccomandazione scritta in lingua francese strutturata in punti numerati, il che facilita molto la presentazione che farò io e anche la sua sintesi. Preciso subito una cosa importante che la legge sulla protezione dei dati non obbliga almeno non esplicitamente l'incaricato federale a giustificare, ad argomentare la sua raccomandazione, dice solo che può emettere una raccomandazione ma il fatto che essa vada giustificata nel testo non è imposto dalla legge. Forse qualcuno potrebbe dar per scontato che questo vada fatto ma io per esempio che mi occupo per gran parte delle mie ricerche di argomentazione finanziaria posso dirvi che vi sono altri contesti come quello di alcune operazioni finanziarie dove il regolatore esplicitamente obbliga certi attori finanziari a argomentare una certa posizione. In questo caso non è così. Comunque la struttura del documento si vede subito che è molto argomentativa perché si divide in tre parti numerate con i numeri romani, dapprima una constatazione dei fatti, il proposé federal constate l'effet suivant e poi seguono otto paragrafi numerati come vedete, che è una sorta di narrazio per dirla con la retorica del renium, in cui l'incaricato riassume i principali eventi che hanno dato spunto alla raccomandazione. Poi abbiamo quelle che in francese si chiamano le considerons de loi, che sono i motivi giustificativi della decisione e infine la raccomandazione che partiamo proprio da quella perché in termini argomentativi coincide con la tesi, ciò per cui alla fine si argomenta. Infatti vediamo che si dice, visto quanto precede, quindi sulla base delle premesse sopra elaborate, l'incaricato federale alla protezione dei dati e della trasparenza raccomanda, non leggo tutti i punti ma i più importanti sono che la società Chalet SG, rappresentata dal signor Jay, cessi la raccolta e il trattamento dei dati personali attraverso la telecamera di sorveglianza, cancelli tutte le immagini e terzo punto, a 30 giorni di tempo per seguire questa raccomandazione, qualora non lo facesse, come ha spiegato prima Sara, l'incaricato può portare la questione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Quindi dicevo, la raccomandazione è presentata come conseguenza delle argomentazioni esposte nel punto precedente, si tratta quindi di una tesi prescrittiva che fa riferimento all'ambito dell'argomentazione pragmatica e che potrebbe essere formulato nel modo seguente, è ragionevole che il signor Jay cessi la raccolta e il trattamento dei dati personali e che cancelli tutte le immagini registrate. Ora, ritorniamo sui paragrafi precedenti per analizzare le mosse argomentative con cui l'incaricato giustifica questa tesi. Alla presentazione dei fatti sono quattro pagine, noi qui abbiamo presentato, preparato una sintesi elaborata da noi in italiano, io cercherò di fare una sintesi della sintesi e per farla breve, dopo se eventualmente ci sono domande siamo naturalmente a disposizione, per farla breve nei fatti si dice che questo signor Jay possiede uno chalet in un certo cantone svizzero, che è usato regolarmente da un'associazione da lui presieduta e che, punto importante, questo chalet possiede una telecamera di sorveglianza, situata non immediatamente all'entrata ma al pian terreno, al semi interrato e non si trova direttamente all'ingresso ma bensì all'interno dopo lo spogliatoio, prima delle docce e delle toilette. Questo vedremo che sarà importante. Che l'unica informazione sulla presenza della telecamera si trova nel contratto di locazione, quindi immaginiamo che io sia il locatario, firmo un contratto e poi invito 20 persone a una festa nello chalet e l'unica informazione sulla presenza della telecamera è nel contratto che io e solo io ho firmato. Poi a un certo punto, nel maggio 2008, a seguito del soggiorno di una locataria, una certa MC, l'incaricato, il signor Tur, viene a conoscenza dell'esistenza di questa telecamera e, come prevede la legge, apre un procedimento volto a chiarire i fatti. E qui comincia un lungo tentativo elaborato da parte dell'incaricato di ottenere informazioni dal signor Jay, cosa che si rivela alquanto difficile perché la prima volta scrive una lettera e non riceve risposta, quindi una raccomandata che risulta non reclamata, quindi una raccomandata con avviso di ricezione. Insomma, dopo vari tentativi riceve una risposta parziale, cioè il signor Jay risponde chiedendo di sapere quale relazione esiste tra l'incaricato e la locataria perché sospetta che vi sia un abuso di posizione. Al che lui risponde dicendo qual è la missione dell'incaricato e che deve rispondere alle domande. A quel punto lui risponde semplicemente che l'informazione sulla telecamera è stata installata ai fini della sicurezza dello chalet e che nel contratto si parla della sua presenza e starà poi al locatario informare i suoi ospiti. Sulla base di questi fatti, mi fermo qui, andiamo nelle motivazioni. Dunque, le motivazioni, innanzitutto alcune questioni preparatorie vengono affrontate. Il primo punto delle motivazioni, nel primo punto l'incaricato osserva subito come con questo comportamento il signor Jay non ha collaborato al chiarimento dei fatti e questo costituisce per legge un'infrazione penale. Tuttavia, poiché egli ritiene di possedere sufficienti informazioni per prendere la decisione, rinuncia a depositare una denuncia penale. Questo è interessante anche perché proprio mostra come l'obiettivo dell'incaricato è quello di comunque cercare il più possibile di evitare di arrivare a una denuncia penale, di prevenire un processo. Dai punti 2 a 4 l'incaricato si assicura che questa questione, questa vicenda sia di sua competenza e lo è, salto questo punto. E quindi, finalmente, nei punti seguenti, l'incaricato tratta la tesi principale, la questione principale, ovvero se il trattamento dei dati per mezzo della telecamera da parte del signor Jay sia lecito o meno, sia conforme o meno alla legge, all'LPD. E nel fare questo, ai punti 5 e 6, dapprima l'incaricato richiama quei tratti costitutivi di un trattamento lesivo della personalità, che sono, che sia proporzionato, che abbia una finalità determinata, può essere accettato se vi è il consenso della vittima, se vi è un interesse preponderante o se è giustificato dalla legge. Nei punti successivi poi approfondisce ciascuno di questi punti che diventano delle sottoquestioni. Dunque deve essere proporzionato, è proporzionato e argomenta, nei punti successivi, spiegando che non lo è, perché, in particolare perché il fine dichiarato è la sicurezza, ma la telecamera si trova, è una sola, quindi non controlla i movimenti in tutto lo scelte e si trova in un indirizzo non strategico, cioè all'ingresso della toilette. Per poi anche dire che non è neanche giustificato dalla legge e, ultimo punto, che gli ospiti non sono informati adeguatamente. Riassumo questo con questo schema, che noi chiamiamo in argomentazione struttura argomentativa, qui ho usato la notazione di Franz Van Emmer, la notazione pragma dialettica, in realtà queste strutture sono state proposte da molti altri autori, cito Fisher, cito Thomas, cito Walton stesso, cito Freeman. L'idea di questo schema è, data una tesi, che qui è il trattamento con la videocamera da parte del signor Jay, non è lecito, cerchiamo di capire come le proposizioni rese esplicite nel testo sono, diciamo, rapportate fra di loro al fine di giustificare la tesi, di sostenere la tesi. E qui vediamo quindi che possiamo distinguere diversi tipi di strutture, abbiamo una struttura cosiddetta coordinata all'inizio, poi abbiamo una subordinazione, quindi la premessa 1-1-B diventa sottotesi di altre premesse, le quali a loro volta sono sostenute, abbiamo argomentazioni multiple, indipendenti e coordinate, subordinate. Però che cosa questa struttura non ci dice a livello di argomentazione? Questa struttura ci dice solo quali proposizioni esplicite nel testo servono all'argomentante per difendere la sua tesi. Quello che non ci dicono è se e come queste premesse effettivamente giustificano la tesi. In altre parole, questa struttura non ci dice niente sulla configurazione inferenziale dell'argomento. L'inferenza, quella che per noi, in particolare per il nostro gruppo di Lugano, è la dimensione fondamentale dell'argomentazione. Aristotele diceva l'inferenza è quel discorso che certe proposizioni essendo stabilite, un'altra ne consegue necessariamente. Questa struttura non ce lo dice, ce lo promette. Per analizzare la struttura inferenziale, utilizziamo un modello che si chiama il modello della topica argumentum che il nostro gruppo di Lugano ha sviluppato in questi anni. Si chiama della topica proprio perché punta a ricostruire gli argument schemes, le strutture inferenziali, rivalutando, recuperando la tradizione della topica di Aristotele, che poi segue in Cicerone e poi in alcuni studiosi medievali, Boezio, Pietro Ispano, Abelardo, Buridano. Dunque, secondo questo modello, prima di tutto, si parte dal fatto che tra la premessa e la conclusione, cioè tra l'argomento esplicito nel testo e la tesi, esista prima di tutto una relazione ontologica. Questa relazione ontologica si chiama locus, luogo. E nel nostro caso, se analizziamo il primo passaggio, quello per cui il trattamento della telecamera lede alla personalità senza che vi sia il consenso della vittima, un interesse preponderante o una legge che lo giustifichi, giustifica la tesi che non è lecito per un luogo della definizione. Vengono richiamati i tratti definiti dalla legge, i tratti che definiscono un trattamento lecito o illecito. Ora, il luogo, questo è il luogo della definizione, ma vi possono essere molti altri luoghi, ad esempio ieri la professoressa Poggi faceva l'esempio di Nerone, in quel caso il luogo non è della definizione, ma della causa finale, che è il luogo che gestisce tutti i ragionamenti legati all'azione. Il luogo è una relazione ontologica che implica delle connessioni inferenziali, che noi chiamiamo massime. Dunque, data la definizione, dato la relazione tra la definizione e il definito, io posso ottenere un'implicazione che suona più o meno così. Se X non possiede i tratti previsti dalla definizione di P, X non è P. Ora, questa massima è una premessa maggiore di un sillogismo ipotetico, che continua con una premessa minore e che porta alla conclusione che coincide con la tesi. Ma la premessa minore, cioè che il trattamento con la videocamera da parte del signor J non possiede i tratti previsti dalla definizione del trattamento legito, dove la troviamo? La troviamo nel contesto, la troviamo nella decisione, nelle informazioni e nelle leggi che l'incaricato riassume nel testo. E più precisamente nella congiunzione che abbiamo visto prima nella struttura. Nella congiunzione di 1-1-A e 1-1-B, che nella struttura sono rispettivamente un datum, una serie di fatti, e quello che noi chiamiamo endoxon, richiamando la nozione di Aristotele. Cioè un valore, una proposizione condivisa all'interno di una comunità, di una doxa. Vedete che in effetti quello che compare nel datum sono fatti che riguardano il signor J e il suo trattamento. Quello che compare nell'endoxon è la legge. Che la legge, ignorantiam legis non excusat, cioè la legge è parte del condiviso di una comunità. Cioè che lui sappia o non sappia quello che dice la legge, è anche lui committed, impegnato, alla verità di questa affermazione. Cioè che la legge definisce lecito un trattamento se a queste condizioni. Sì, ultimo passaggio e poi concludo. Utilizziamo lo stesso procedimento per analizzare il passaggio conclusivo. Quello che dalla non leicità del trattamento porta alla raccomandazione. La raccomandazione è che è una minaccia, come diceva prima Sara. E anche la minaccia la possiamo analizzare con queste strutture. Dove il luogo della minaccia è un luogo molto diverso da quello della definizione. Lo chiamiamo un luogo complesso perché la sua validità, la sua forza, dipende da varie condizioni, una delle quali è la libertà della controparte. Infatti vediamo che la massima suona così. Se un agente X manifesta la decisione di causare una situazione negativa SN per l'agente Y, nel caso in cui Y non compie l'azione A, non desiderabile in sé ma preferibile a SN, l'azione A diventa desiderabile per Y. Allora, qui ci accorgiamo che la forza di questa minaccia, quindi, cioè la minaccia di portare il caso davanti al tribunale, dipende da che cosa? Da la forza degli argomenti che ho presentato prima, degli argomenti che l'incaricato ha proposto per la lecetà del trattamento. Cioè, in altre parole, mettiamoci nei panni del signor SJ, a quali condizioni lui potrebbe avere paura di questa minaccia? Nella misura in cui lo scenario in cui un giudice dà ragione all'incaricato è uno scenario plausibile, che se sono le grida del Manzoni, e io sono un bravo, me ne faccio un baffo, no? Ma se invece la minaccia di portare il mio tribunale è forte, ed è forte perché il giudice probabilmente mi darà torto, allora lì devo temere la minaccia. E che il giudice mi darà torto lo posso capire vedendo le argomentazioni date dall'incaricato, che funzionano come una sorta di sentenza preformulata. E qui passo alle conclusioni. L'argomentazione sviluppata dall'incaricato serve a rendere plausibile lo scenario in cui il giudice condannerà il signor J. Scopriamo così che l'argomentazione non serve solo a giustificare la raccomandazione, ma anche a suggerire la decisione che il Tribunale Amministrativo Federale prenderebbe, una sorta di preformulazione della sentenza, un po' come le organizzazioni scrivono i comunicati stampa per preformulare la notizia. Questa funzione è cruciale per rendere la raccomandazione efficace e realizzare in questo modo una delle finalità fondamentali dell'incaricato, che è quella di prevenire un conflitto giudiziario. In conclusione il caso analizzato ci pare dunque un bel esempio di come l'argomentazione possa essere messa al servizio delle istituzioni al fine di migliorare la loro capacità di rispondere alle esigenze della cittadinanza e della società più in generale. Vi ringrazio. Ecco, il collega Pupo mi ha fatto notare che sarebbe tutto programmato per l'una, il nostro pranzo, e quindi siamo notevolmente ristretti in termini di possibilità di interazione e anche sulla prossima comunicazione. Quindi vi pregherei nei vostri interventi di essere molto brevi. Federico. Ah, scusa. Grazie. Volevo chiedere, visto che si tratta di minaccia e una minaccia, avvertimento minaccia, e comunque una minaccia efficace nel momento in cui essa è credibile. Quanto vale, anziché il riferimento alla buona argomentazione, o se può essere un elemento, anche la credibilità di chi questa argomentazione la presenta? Voglio dire, lo stesso incaricato mira a far capire che in realtà lui è in potere di dare questa raccomandazione prima di presentare, se non ho capito male, anche le sue stesse ragioni. Quindi, per fare un esempio anche nella nostra quotidianità, ad esempio nel momento in cui qualcuno riceve una lettera da altro consumo, già solo perché riceve una lettera da altro consumo è molto più facile che risponda, poiché è credibile la fonte da cui deriva la minaccia, per quanto riguarda elementi relativi ai consumatori. Quindi, può essere solo una questione di buoni argomenti, o anche una questione di credibilità della fonte? Grazie. Rapidissimamente sulla questione della topica, Rudy, poiché ignoranza leggi è excusata, anche nel diritto penale ormai. La traduzione che Colli offre del passo dei topici, circa l'endoxon, lui dice non è notevole l'opinione che è condivisibile, ma è notevole l'opinione che appare condivisibile. A me pare che assimilare Boezio ad Aristotele da questo punto di vista sia troppo frettoloso, perché Boezio assume certamente Aristotele, ma cambia l'idea della topica che Aristotele aveva, e la riduce esattamente a quello che avete fatto vedere voi, che non sto dicendo che sia sbagliato, ma è un modo di intendere la topica, c'è un gioco di schemi argomentativi, tra virgolette, inautomatico, che forse per Aristotele non era così. Soltanto una provocazione, è vero che l'argomentazione ha un ruolo nel rendere credibile la sanzione, quindi è importante, ma non è secondo me l'unica ragione che può dissuadere dal porre in essere un'azione, anzi, intanto bisogna andare dal contesto, chi è il ricevente di questa raccomandazione? Magari uno che non ne capisce nulla i diritti, quindi si spaventa e basta. Qualcuno che ne capisce molto e però preferisce in ogni caso risolvere la questione e non andare in... quindi c'è il contesto più pragmatico e più ampio di così. Rapidamente, no, soltanto due cose velocissime. La prima sulla nozione di luogo della definizione, avete parlato di luogo della definizione, riferendovi a un aspetto ontologico. Vabbè, al di là che io ho una certa avversione per l'ontologia, quindi è una questione mia, non la voglio riferire a voi, però mi sembra che riferire la relazione ontologica a questioni di definizione, al luogo della definizione, presupponga il realismo semantico. Se ci poniamo da un punto di vista del nominalismo, utilizzare la nozione di ontologia per parlare della definizione mi sembra francamente non proprio felicissimo, però è una prima questione. E quindi volevo sapere se utilizzare questo termine presuppone il realismo semantico, che questo mi creerebbe dei problemi, o se non lo presuppone forse non è un'espressione felicissima. Secondo punto, in uno dei passaggi finali, l'idea di forza dell'argomento mi pare che sia stata legata, forse io ho compreso male, forse è stata la rapidità dell'esposizione dovuta ai tempi, sia stata legata al meccanismo inferenziale. L'argomento è tanto è forte perché si basa sul meccanismo inferenziale descritto, invece solitamente non è sufficiente la presenza di un meccanismo inferenziale per definire un argomento come forte. Quindi volevo chiedere se c'è questa sovrapposizione, perché dalla relazione è apparsa, questa sovrapposizione è un po' è apparsa, se invece non c'è vorrei capire quali sono le condizioni di forza dell'argomento e quali sono le relazioni tra la struttura inferenziale e le condizioni di forza dell'argomento. Non possiamo prendere altre domande, anche se sono impellenti. Apprezzo che dovranno rispondere in tempi brevi alle domande che sono molto rilevanti. Rispondo velocemente alla prima e alla terza domanda, che entrambe mettono in luce il fatto che naturalmente la forza dell'argomentazione dipende non solo dal contenuto, dal logos, ma anche dall'ethos e dal pasto, cioè da chi è il mittente e da chi è il destinatario. Certamente sì, naturalmente l'incaricato è una figura istituzionale in Svizzera, quindi è ovvio che naturalmente dipende anche da chi legge. Però mi sembrava importante, anche dal punto di vista della risoluzione alternativa del conflitto, il fatto che la raccomandazione sia argomentata e di questi argomenti il giudice può far qualcosa. Non avrebbe comunque la stessa forza. Cioè l'incaricato resta l'incaricato, ma il fatto che il testo sia argomentato aggiunge un elemento interessante. Tu vuoi rispondere a Federico? Secondo me c'entra anche con l'ultima domanda. Sì. No, allora diciamo, noi nel modello dell'IMT la nozione di Hendoxon ci sembrava che non coincide necessariamente perfettamente con la definizione di Aristotele, ma il valore che abbiamo voluto mantenere è proprio quello di questa condivisione all'interno del contesto, della comunità, ed in questo senso per noi si differenzia dalla massima. Cioè, noi, per fare un esempio banale, un esempio che facciamo spesso con gli studenti, se io argomento il classico esempio dei medievali, i Mauri non hanno armi perché non hanno ferro, i Mauri non hanno arma ferrea. allora questo è un ragionamento che noi ricostruiremo con il luogo della causa materiale, dove la massima è se manca la materia di un prodotto, il prodotto non può essere realizzato. e l'indoxone è che le armi sono fatte di ferro. La differenza è che il primo principio vale sempre, almeno dal nostro punto di vista, il secondo dipende anche da contingenze storiche, qual era il materiale, quei tempi con cui si facevano le armi. Tant'è vero che io posso usare un'altra argomentazione totalmente diversa. Mia moglie che dice ai miei figli, non possiamo fare la zachertorte perché è finito il cioccolato. È la massima, è la stessa identica, manca la materia per un prodotto. Ma stiamo parlando di oggetti totalmente diversi, è un altro il contesto. Oppure possiamo fare ancora un argomento delle armi in un'epoca storica in cui le armi non sono fatte di ferro. L'indoxone non vale più. Anche qui potrebbe cambiare la legge. E la definizione di trattamento lecito non è più la stessa. Ma dal nostro punto di vista non cambia la regola inferenziale per cui, dato il definito, data la definizione. Quindi non basta il meccanismo inferenziale per rispondere all'ultima cosa? Esatto. Perché c'è anche questa componente di ancoraggio dell'argomentazione nel contesto, direi. Esatto. E nel caso specifico, quando dicevo forza, intendevo anche dire che, appunto, se ci mettiamo nei panni del minacciato, pensiamo in generale anche all'atto linguistico della minaccia, no? Cioè una persona che viene minacciata cambia, cioè la minaccia cambia la realtà sociale, no? Si prendono di nuovi commitment, di nuovi impegni. Allora la minaccia è tanto credibile quanto uno dei fattori è la plausibilità che l'evento minacciato avvenga. Che in questo caso dipende dalla libertà del minacciante, no? Allora, per esempio, io mi chiederò, valuterò a partire da questa struttura, con delle critical question, potrò per esempio valutare, ma è sincero? È in grado? È in grado? Quando mio figlio di tre anni mi minaccia con la sua spada di plastica che mi farà del male, non è in grado di farmi del male, no? Qui una delle questioni, oddio, no, ritiro subito quello che ho detto, perché mi sono ricordato di un evento molto doloroso. No, qui in questo caso sicuramente uno dei fattori è la qualità argomentativa della giustificazione. Cioè più la giustificazione della tesi che il trattamento è lecito è convincente, più aumentano le possibilità che il giudice seguendo questa linea mi condannerà, in questo senso da forza la minaccia. Poi giustamente lei diceva magari il minacciato non si intende di diritto, però poi magari potrebbe rivolgersi all'avvocato, oppure semplicemente si spaventa, ma lì siamo alle inferenze, non quelle comunicate dall'argomentante, ma quelle che poi fa l'antagonista, diciamo. Manca l'ontologia. Allora, io non... Io, scusate, è una questione anche di rispetto per l'ultimo... Dopo ce lo dico, sì. Ne possiamo parlare a pranzo? Sì, sì, va benissimo. Non possiamo andare oltre. C'è luogo del tempo in questo caso che è uno dei più cogenti. Grazie. Va bene, allora siamo arrivati alla ultima comunicazione di stamattina. Milos, che è già pronto e che parlerà di arguments from fairness and extensive interpretation. So, Milos, the floor is yours. And did you load your presentation already? Oh, you don't have a loaded presentation. That's great. Thank you. I'll try to keep it short. Okay. I just read it out and then you ask if anything remains unclear. Aristotelian fairness, epikeia, is usually interpreted as serving the aim of justifying a lenient application of law. And most interpreters agree that this is the only way in which arguments from fairness can be used as the supplementing of legal definitions is not meant to be used for establishing legal responsibility where a certain behavior is not explicitly forbidden by law. In terms of the rules within a legal dispute, this is usually meant to say that fairness favors the defendant. The possibility of a broader reading of epikeia was first raised in modern scholarship by Max Hamburger in the 60s in his survey of Aristotle's legal theory. Talking about the development of Aristotle's conception of fairness, Hamburger claims that it is only in the rhetoric that it becomes entirely clear that epikeia is meant to serve as a corrective of written law within the framework of the division of rules described in the introductory chapter of Book I of the Rhetoric. Aristotle wants laws to be as detailed as possible, but he's aware of the fact that even the best laws cannot cover all possibilities. Thus, fairness works in the space left for the judge to perform his task of deciding about the facts. The interpretation of fairness in the rhetoric is sufficiently general, however, to cover arguments in both directions for the denial of responsibility as well as for its extension. In this sense, it corresponds to Hamburger's insight formulated in his discussion of the magna moralia. I quote him, Even though only the aspect of yielding is stressed, if we consider the other side, the other party to the contract involved in this equitable adjudication, we at once realize that this party receives under the same title of epikeia more than what the letter of law would give. While Hamburger may not be entirely justified in formulating his expectations as what the correct formulation of Aristotle's theory would be, his observations concerning the differences between approaches reflected by the three works, that is, the magna moralia, the Nicomachian ethics, and the rhetoric, are nevertheless pertinent. In fact, scholars' apparent unwillingness to seriously consider the possibility of extensive interpretation being covered by fairness may stem from three factors. Firstly, and most importantly, Aristotle presents the arguments related to both epigramma, definition, and epikeia, fairness, as well as his examples, from the perspective of the defendant. Secondly, where fairness is mentioned in the orators, it refers to a lenient application of law. And thirdly, some scholars might be influenced by the idea of nullum crimen, or nulla pöne sine lége, which is part of Western legal thought, but apparently not part of Athenian. To focus just on the second point, which is the most important for us here, The evidence of the orators is rather meagre, if one only considers the passages where the terms epikeia or to epikeia occur. And in most of these, they are used as a general term of commendation for moderate and decent persons. And even in those cases, where epikeia apparently refers to a legal phenomenon, It is used to describe an attitude in general, rather than to support a specific claim or prevailed, sorry, or argument. This, in turn, raises the question of what one should look for when trying to find arguments from fairness in forensic speeches, a question to which I shall not turn. The question of whether arguments from fairness were present in ethic judicial oratory is important for us for at least three reasons. First, as in the cases of probability and definition, answering it may contribute to our understanding of what Aristotle is doing in the rhetoric, reflecting on contemporary practice, or rather formulating principles of argumentation based entirely on introspection. Second, if a link between Aristotle and practical oratory can be established, the question concerning the character of that link emerges. Does Aristotle codify, as it were, the practice observed in the courts, or does he offer a way to develop it? Third, arguments from fairness deployed in genuine speeches may have an impact on our interpretation of the text of the rhetoric, and in particular, on our answer to the question raised in the previous point, that is, whether Aristotelian fairness leaves space for an extensive interpretation of written law, in addition to the lenient application of law based on its restrictive interpretation. According to the widespread view, that may now be regarded as the traditional one, that goes back to main and historical jurisprudence, Athenian law, or ancient Greek law in general, relied on the use of fairness to a great extent. In those accounts, fairness is identified with the use of extra-legal arguments, and it is sometimes argued that such arguments actually prevailed over strictly legal ones. This view has several different sources, and interestingly, it does not seem to be based primarily on the analysis of the arguments deployed in the extant judicial speeches. Rather, it attributes a considerable weight to contemporary opinions about the way popular courts made their decisions in Athens, which can be found, for instance, in the orators, but also in Aristotle. A second source may be Aristotle's discussion of epiakia arguments, taken together with his list of what may be regarded as epiakias, but also with the topics against written law. These are in different parts of the rhetoric. Thirdly, this view also stems, seems to result from a comparison between Greek and Roman law on the one hand, and between the ancient Greek and modern western legal cultures on the other, with the differences being emphasized in both cases. Thus, the different approaches of individual authors, notwithstanding, proponents of this view all agree that fairness played a considerable, perhaps definitive role in Athenian legal practice, and also that its importance was somehow due to the character of the Athenians approach to law, which reflected in their institutions as well as the functioning of these. The first challenge against this traditional view was formulated in modern scholarship by Harald Mayer-Laurin in the 60s, who argued that an analysis of the evidence does not confirm that fairness would have served as a basis for judicial decisions. As for Aristotle's discussion of epiakia in the rhetoric, Mayer-Laurin claims that it is based on a moral, rather than a legal conception of fairness, and that it has no connection whatsoever with contemporary legal practice. A different interpretation of the evidence and of Aristotle's passages has been offered by Edward Harris in his more recent work. Affirming the presence of epiakia in the legal argumentation of the Athenian orators, and denying at the same time the extra-legal character of such arguments, Harris regards fairness as a principle that inform legal interpretation by the courts, without requiring the judges to decide contra legem, and thus violating their judicial oath. Seen in this light, Aristotle appears as an author whose theory is based on, and not formulated against, contemporary practice. To be able to assess the role played by fairness in legal argumentation, one should first define the nature of the evidence one is looking for. These methodological considerations are important for us, because they apparently influence the research outcomes. Mayer-Laurin's starting question is, whether there was an acknowledgement of fairness in the positive law of Athens, and he analyzes judicial speeches, to see whether party speakers did actually cite arguments from fairness, and whether juries considered arguments from fairness. In doing so, he is looking for references to what he calls das juristische Prinzip, the legal principle, excluding at the same time purely rhetorical references to fairness. While the latter move is completely justified, the requirement of referring to the legal principle of APA-Keya seems problematic. But actually, Mayer-Laurin wants the speakers to argue, in order that their arguments qualify as arguments from fairness, is that a moral consideration should be given precedence over the provisions of written law. What he finds, in turn, is that the reasoning of judicial speeches is based primarily on written law, however irrelevant these references may be, with moral considerations mentioned only in order to show that the application of the statutes is not going to lead to an unjust decision. Unlike Mayer-Laurin, Edward Harris grants his survey of the evidence on an analysis of Harris Law's discussion of fairness in the Neicomachian ethics and the rhetoric. Due to the insights gained from this analysis, Harris is not looking for APA-Keya being opposed to law in general. Rather, he seeks to identify argumentative patterns in the speeches that correspond to Aristotle's topics of fairness. What he finds, then, is arguments that seek to vindicate justice beyond written law without questioning the validity of written law. Okay, I just skipped part of it. In terms of legal history, this means that Athenian law did in fact recognize APA-Keya. In terms of arguments from fairness, this also means that they are somehow linked to the concept of a legal order, which provides backing for a not so strict interpretation of the law. The latter insight is of particular importance for us here, since it links back to the functioning of arguments from fairness, which I try to investigate elsewhere. There, I argued that these arguments work through definition, that is, the speaker has to offer an interpretation of the key conceptual elements of the legal provision, in order to show that, as in the case of the man striking with a ring on his finger, that is the example given by Aristotle, the law invoked by the plaintiff does not apply to the case. Harris' examples of judicial oratory also show that such an interpretation is not necessarily made explicit in the speech. Aristotle, on the other hand, has to explain to his readers how an argument from fairness can be constructed, and therefore he has to make it clear too, that it is based on the legislator's intent, which is again, not always mentioned in actual speeches. Thus, Harris' research highlights the key elements of arguments from fairness appearing in judicial rhetoric, and it also confirms that they correspond to what can be identified as the key elements of Aristotle's description of epi-akaya arguments. With these conceptual elements in mind, we may now turn to the question raised in the previous point, that is, whether arguments from fairness work in both directions. As mentioned above, epi-akaya is usually taken to serve the institution, in the interest of the defendant, and Aristotle's example refers to such a case, but justice beyond Witten law seems to be more generally valid. The possibility of extensive interpretation of statutes as an instance of epi-akaya has been examined in a recent publication by the Japanese scholar Yasunori Kasai, who devotes most of his efforts to refute Mayor Laurence's claim that fairness did not play much role in Athenian law before the Ptolemaic age. He does so by identifying some key terms in Aristotle's definition of wrongdoing, then pointing out the same terms in the legal argumentation of two courtroom speeches. While his method is not without dangers, Kasai's essay nevertheless has the merit of looking at the evidence without presupposing the one-sidedness of epi-akaya. Yet, as in the case of positive epi-akaya, that is the lenient interpretation of law, one should not expect orators to argue that the defendant ought to be punished, because this is what epi-akaya requires. What one should look for is, again, a certain structure of argument. In this case, one that advocates an extensive interpretation of the law with reference to the legislator's intent, probably focusing on the definition of key legal terms. Looking at extant pieces of Athenian forensic oratory, we see that there are such structures. Actually, some arguments deployed by the speaker in Hyperides' speech against Athenagoras helped to substantiate Kasai's main claim more than the terminological correspondences he discusses. In order to show that a certain contract is unlawful and therefore not valid, which is the main claim of the speech, the speaker quotates several laws, which are prima facie irrelevant for his case, by doing so, he seeks to reconstruct the legislator's intention on the basis of these laws, in which it is expressed in complete form, that is, where a distinction is made between just and unjust legal acts. Yet he needs to persuade the judges that his references to these laws are relevant for the case. This, in turn, requires an extensive interpretation in each case, since the statutes he mentions are apparently meant to cover different situations. Are we on time? Yeah, you're fine. How many minutes left? I even counted it, so just go on. I've seen that you have crossed off lots of pages, lots of parts in your... Just whether I should give the example, but it may be meaningful. So in the speech against Athenaganes... I'm not cutting you, I'm cutting the questions. Okay. The speaker, Epikrates, cites four laws to show that the validity of contracts may be challenged in case of fraud. The first rule prohibits lying on the market. While their contract was clearly not about a market sale, because Epikrates bought a workshop, he says that the fraud took place in the marketplace, for it was there that the defendant, Athenaganes, gave insufficient information concerning the debts attached to the workshop he sold. The second law is about the deficiencies of slaves, which the seller has to disclose before making a contract, for otherwise the transaction can be cancelled by the buyer. Here again, it requires some effort from the plaintiff to show why this provision is relevant for the selling of a workshop. He does so with the help of an argument afore the theory. In the case of Beth Health, the buyer only loses the price of the slave, whereas the deficiency of Midas, the slave he bought, may result in Epikrateses and his friends losing all their money, because they have to pay the debts of the slave. The third reference seems to be the most far-fetched one, as it is to a law that says the criteria for the legitimate birth of children, providing that the mother has to be married according to the law. The emphasis, Epikrates argues, is on the lawful circumstances of the betrothal, that is the party's expression of consent. And finally, he says the law about testaments, which sets limits to the freedom of making testaments in cases where the testator is affected by old age, illness, or insanity, or if he's influenced by a woman, or imprisoned, or otherwise coerced. Here, his point is that he was misled by Antigona, a hetaira, who he thinks acted according to the defendant's plan to make the impression that the buyer has to arrange the sale in a haste. Another case, in which even the problem of hold the legislator's intent can be expressed, comes to the surface in Lysias' speech against Theomneistus. There, the speaker is the plaintiff, who accuses Theomneistus of having used one of the unspeakable words, the aporreta. The defendant, he anticipates, may argue that he did not actually use the forbidden word that was murderer, but merely said that the speaker killed his father. The legislator's intention is, according to the plaintiff, completely clear and is related to the meaning of the words rather than their forms. It would be unreasonable, he says, to expect from the legislator to list all the synonyms. Rather, he expressed his intention concerning all the similar words by mentioning just one. In both cases, the final aim of the speakers is to show that the defendant had the wrongful intent and that therefore the law that forbids some similar behavior should be applied. By doing so, they urged the judges to go beyond the written law in terms of its letter, but not its spirit. Epiakaya, on the one hand, makes sure that only wrongdoers are punished, but on the other hand, also that no wrongdoing goes unpunished. Thank you very much. Thank you. Yes, I think it's too bad that we are pressed with time, but I think that there's room for a couple of brief questions. Thank you for your presentation. I have just a remark, and maybe it is affected by my knowledge about Italian criminal law. I would like to know if your study, your research, include a research, a study about the difference between argument from fairness and argumentation from an argument from analogy. I mean, in Italian jurisdiction, in criminal law, argument from analogy is forbidden, but argument from fairness, you say it is necessary, and so what is the difference? This is my question. Other questions? So I suppose you can start answering this one, and eventually we'll continue discussion. Sure. I think this is the case with most legal systems today, and this is what seems to have influenced interpreters of Aristotle. So my argument basically is that if we take seriously what Aristotle says about the concept of fairness, then it can be used to cover extensive interpretation based on analogy. So we do see a difference between them, but I think Aristotle did not. And my argument was on the basis of extant speeches that Athenian law did not really have this ban on arguments from analogy. Thank you very much. Thank you to all the speakers, and to you. Thank you. Thank you.